La nostra azienda è la Schuko International Italia, una filiale del gruppo Schuko con sede a Bielefeld in Germania, presente in Italia da oltre 70 anni e specializzata in involucro ed edizio. La formazione nella nostra azienda è sempre stata uno dei pilastri fondamentali. Con Forema abbiamo avuto l'occasione di partecipare al bando del Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto. Abbiamo appunto avuto l'occasione di dedicare una formazione massiccia a un reparto come quello del magazzino, che è un reparto molto operativo e difficilmente riesce a rimanere in aula per molto tempo. La cosa di cui andiamo particolarmente fieri è che grazie a questo percorso di formazione ci siamo allenati a rispondere alle complicazioni che vengono dall'esterno. Siamo più versatili nella risposta delle richieste dei clienti e dei fornitori. Grazie a tutti.